Un pareggio che porta a quattro i risultati utili consecutivi per il Montevarchi, che consente di fare un altro piccolo passo verso la salvezza diretta. I Rosso-Blu si ripresentano con il consolidato 4-3-3, con Ruffini dentro da subito al posto di Preore, infortunato. L'Orvietana si presenta con Orchi, Congiu e Marzini, titolari, 13 gol in tre in questo campionato. Durante il minuto di silenzio, per la morte del giovane calciatore del Castelfiorentino Mattia Gianni, anche la Curva Farolfi ha dedicato uno striscione al ragazzo. Partenza Lampo, come sette giorni fa per il Montevarchi. Ciofi mette dentro al centro, raccoglie Muscas, che piazza un pallone all'altezza del dischetto del rigore. Bontempi però non riesce a centrare la porta. Al settimo prova a rispondere l'Orvietana con uno scambio proia-Ciaverini, che fa trovare pronto Dainelli. Ma è all'undicesimo che la porta si fa stregata per il Monte, che con un dai e vai tra Ruffini e Bontempi porta quest'ultimo a scagliare un diagonale, che trova il palo sulla ribattuta si avventa Lischi, che trova lo stesso montante a negare il vantaggio rosso-blu. Un presagio che scaturisce nello svantaggio per i padroni di casa. Traversone dalla tre quarti, palla perfetta al centro dell'aria, proia libero a difesa schierata, batte Dainelli di testa per l'1-0 degli Umbri. Al diciottesimo però l'Aquila risponde con la punizione di Conti, che trova la spizzata di Lischi, che diventa un assist per Bontempi, e che arriva prima di tutti sulla palla e batte, ma Ricchi è l'1-1. Dopo il gol la partita diventa tattica e l'unico sussulto si registra al quarantunesimo, con un'incursione del Montevarchi, una bella triangolazione che non viene finalizzata. Nella ripresa, dopo dieci minuti, tutti protestano per un presunto fallo di mano di Orchi. Il Montevarchi chiede il rigore, l'arbitro oggi all'inglese e senza VAR lascia proseguire. Allora di gioco il calcio di punizione degli Umbri viene messo dentro per Proia, che mette fuori. Dagli sviluppi del corner l'Orvietana va di nuovo vicino al gol, palla alta. La partita si vivacizza, Lischi raccoglie un pallone dalla tre quarti, che mette però alto. Al 74esimo Bontempi si fa rivedere a pochi passi dalla porta, l'Orvietana si salva però ancora in angolo. Poco dopo Bontempi cade in area avversaria, Lorenzini tira la maglia al rosso-blu. L'arbitro non concede il rigore, timide le proteste. All'83esimo dalla parte opposta ci prova dalla distanza Greco, palla fuori. È l'ultima occasione del match, partita combattuta nella quale le due squadre hanno da recriminarsi ben poco, se non forse più precisione. Orvietana squadra solida, il Montevarchi conferma il suo fine stagione in crescita, un'altra squadra rispetto ad inizio campionato. È stata una partita in cui si è pensato al risultato perché tutte e due le squadre volevano il risultato, sicuramente. Era una partita difficile, da un punto di vista soprattutto mentale, perché quando sono quelle sfide decisive chiaramente è un po' più difficile. La squadra sicuramente ha fatto un piccolo passo indietro dal punto di vista perché era un po' contratta, probabilmente per l'importanza del risultato. E questo si è visto fin da subito, però abbiamo cercato di fare la partita, abbiamo cercato di vincirla fino a un fondo, voglio dire. È chiaro che stavamo incontrando una squadra che, come avevo detto già in settimana, è in grandi condizioni. Una squadra che se togliamo Pian Castagnaro la domenica passata, nelle ultime dieci partite aveva fatto 18 punti, che nelle ultime sei trasferte aveva fatto 12 punti, con tre vittorie e tre parecci. Per cui trovavamo un avversario sicuramente in questo momento che stava bene. L'abbiamo affrontato assolutamente per vincere la partita, ci abbiamo provato in tutti i modi, non ci siamo riusciti, questo sì, però la squadra ha fatto una buona prestazione secondo me, al di là della tensione che ho avvertito all'interno della squadra. Diciamo che è stato un pareggio giusto, bella partita, tosta, sapevamo, incontravamo una squadra in salute comunque, che aveva fatto tanti risultati ultimamente e quindi sapevamo che non era facile. Oltretutto motivati dal fatto che loro giocavano per far loro la partita ed essere credo definitivamente salvi, quindi una partita assolutamente difficile che credo noi abbiamo interpretato nel giusto modo, abbiamo ribattuto colpo su colpo. Se devo fare un piccolo appunto, probabilmente in occasione del pareggio c'è stato un piccolo errore che ci è costato e non è la prima volta. Penso che fino a dieci minuti alla fine le squadre hanno cercato di far proprio la partita, è chiaro che poi dopo quando mancano cinque minuti e vedi il traguardo, la paura forse di perdere prevale sul fatto di andarla a vincere. La nostra salvezza passa anche attraverso un mattoncino, oggi ne abbiamo messo un altro su, domenica per quanto ci riguarda faremo un'altra partita molto difficile, ma andremo in un campo importante, ma non ci spaventa assolutamente. Grazie a tutti.